Ciao a tutti ragazzi sono sempre io il vostro amico Federic95inita e vi parlo del canale del Trading Car Game Ciao a tutti e benvenuti alla primissima parte dell'apertura del secondo box di Pokemon Y Ecco ragazzi qui il box, per gli ultimi arrivati dico subito che nelle 4 scorse parti quindi nel primo box Abbiamo trovato delle carte veramente spettacolari e se non avete visto le scorse parti mi raccomando andatevele a vedere Perché ragazzi sono state veramente a dir poco epiche, abbiamo trovato delle carte eccezionali E niente ragazzi oggi faremo la prima parte di questo secondo box e speriamo che ci riservi delle carte altrettanto belle come le prime parti E niente iniziamo subito, io naturalmente ho già sfilato i nostri 5 pacchetti, eccoli qua, 1, 2, 3, 4, 5, eccoli qua E niente ragazzi iniziamo subito dal primo pacchetto, ricordo in questo box ci mancano mi sembra soltanto una X Mi sembra che è Blastoise, ricordo non Mega Blastoise normale Quindi naturalmente ci mancano anche le Full Art, ecco ce ne mancano 2 di Full Art E niente speriamo di trovarle in questo box almeno una che ci manca E niente cosa dire ragazzi, io direi subito di iniziare con l'apertura E niente vai si sbusta ragazzi, primo pacchetto siamo sempre in compagnia delle nostre forbici nere oggi ragazzi Forbici nere, e vai si sbustano naturalmente, lasciate un bel like come nelle scorse parti ragazzi Mi avete fatto veramente felicissimo, ho visto tantissimi mi piace Quindi grazie 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 a tutti quanti, vi stimo da morire Niente se questo video arriva a 100 like ragazzi il giorno dopo faccio subito uscire la prossima parte Ve lo dico, se questo video raggiunge 100 like faccio subito uscire la seconda parte del secondo box di Pokémon Y Vai ragazzi, mettiamo subito a fuoco le carte così vai Ok, giriamo, allora troviamo un Jigglypuff ragazzi, bellissimo Ora incominceranno i doppioni naturalmente ragazzi perché è ovvio un box lo finisce già tutto, quasi il set Quindi in questo pacchetto voi potete vedere tutte le doppioni Vai, continuiamo con un altro pack Tagliamo, cerchiamo di non tagliare le carte naturalmente Vai E ricordo ragazzi inoltre che se non avete ancora visitato il mio secondo canale dedicato a Minecraft Passateci, troverete il link qua sotto in descrizione Mi raccomando passateci perché è un ottimo canale, ho già aggiunto i 100 iscritti Quindi grazie a tutti quelli che si sono iscritti Vai, altro pack di oggi Giriamolo Allora, vediamo un po' cosa troviamo La Voltorb Vai, continuiamo ragazzi con le spade Le spade, double energy E infine Oddio, questo ragazzi non so come si chiama Dovrebbe essere tipo Come si chiama O scienziato, non lo so Non mi ricordo proprio come si chiama ragazzi Va benissimo così, dai Continuiamo Naturalmente ripeto che alla fine di queste quattro ultime aperture Poi ragazzi rincomincerà la guida a Pokemon Y Quindi ragazzi si rincomincerà con il gameplay Quindi ragazzi Molti, molti mi avete chiesto di fare Di ricontinuare quella guida Di Pokemon Y Che avevo lasciato in sospeso proprio per queste opening Quindi Raiorn Qua abbiamo scimmietta Cloyster E infine Niente Quindi ragazzi Questi primi pacchetti Proprio deludenti Deludenti al massimo Vai Speriamo in una bella X Subito alla prima parte del secondo box Magari in una X full art Ragazzi Magari Mamma mia Speriamo Vai Magari in un blast X full art Non si sa mai Vai Comunque vai con questa altra parte Alla vai Shellder Mi sembra che si chiama Sì Biduf Skitty Rilipide Infine Un Oddio lo starter di tipo erba ragazzi Quindi abbiamo doppione Olo Bello Molto bello ragazzi Che è già prenotato per un mio amico Che me l'aveva chiesto se lo trovavo doppione E quindi È prenotato Quindi non me lo chiedete Quindi ragazzi In questa opening Solo questa Olo Doppione Ripeto Vai Ultimo pacchetto di oggi Vediamo un po' cosa si trova Dai ragazzi Vediamo cosa si trova Widdle Scolipede No mi vorrei sbagliare Quindi non lo dico Questo è l'evoluzione Bibarel si dovrebbe chiamare Mi sembra Sì Non mi ricordo No E infine Messaggio Niente di che Un messaggio Vabbè Comunque ragazzi Per questa parte è tutto Abbiamo trovato veramente Poche carte Abbiamo trovato soltanto questo qua Ragazzi Che tra l'altro è pure doppione Quindi Parte da abbastanza Deludente Abbastanza Tanto deludente E quindi ragazzi Per questa parte è tutto Vi invito a mettere Un bel mi piace Un commento Iscrivervi al mio canale primario E al secondario Passate tutti i link Qua sotto in descrizione Come la pagina facebook Che dovete mettere un bel like E niente Per questo video è tutto E ci vediamo Alla seconda parte Del secondo box Bella ragazzi Alla seconda parte